Allora con la prossima delibera il Consiglio è chiamato a prendere atto della comunicazione dei componenti della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 46 del Tuel di LGS 267-2000 dell'articolo 34 dello Statuto Comunale. Vi comunico il nome degli assessori ma prima di comunicare il nome degli assessori con le relative deleghe vi dico quali sono quelle che ho tenuto io in quanto Sindaco. Sono affari generali, sanità, scuola, commercio, turismo, comunicazione, giovani, associazionismo e volontariato. Primo assessore Daniele Valentini che è anche vice sindaco e ha le deleghe al bilancio, all'urbanistica, alla pianificazione delle opere pubbliche, all'agricoltura, alle attività produttive, alla città slow e alla protezione civile. Silvia Dallaporta è assessore con la delega al personale, formazione professionale e lavoro, welfare e servizi sociali, promozione del territorio e sostenibilità, semplificazione amministrativa, pace e diritti. Paolo Giorgio Severi è l'assessore con le deleghe alla manutenzione, il patrimonio, all'ambiente e alle frazioni. Carlo Boni è assessore con le deleghe allo sport, alla mobilità, all'edilizia privata e alla digitalizzazione. Erika Spadacini è assessore con la delega alla cultura, ai gemellaggi e alle pari opportunità e politiche di genere e alla partecipazione. Ho dato deleghe a consiglieri, a Gianni Leurini con la delega allo sport e alla manutenzione, a Lucia Manfredi, la delega ai gemellaggi e alla città slow. Thomas Predieri, delega alla cultura, alla pace e ai diritti. Tiziana Lanzi, delega alla scuola, all'associazionismo e al volontariato. Patrizia Nesini, delega al commercio e turismo. Questa è di fatto una presa d'atto e invito Daniele Valentini ad affiancarmi di fianco qui a me. Anche questa, Daniele, non è una sedia comoda, ma penso che ti abituerai presto a stare qui di fianco. Allora, adesso siamo alla costituzione dei gruppi consigliari, designazione dei rispettivi capigruppo.